Il mio stile è quello che c'ho io Adesso uno può essere una persona segna che non mettono la conoscenza del primo però è il suo modo di fare C'è un bagliaccio e basta C'è un bagliaccio e basta C'è un bagliaccio e basta E' lo che mi chiamo In chiunque Si prego Perché il mio percorso sarà di risistenze al più sopra delle parti E l'idea mia rimane sempre la stessa La mia dignità rimane la stessa Qualcuno per qualcosa vende la sua dignità Io l'ho fatto lo stesso E' il mio primo intervento Il popolo ha lasciato un consenso Lo sai benissimo che sono stato sempre contrario alla caduta immediata di questo consiglio Lo sai benissimo Tu sei il numero che ha arrivato di due modi bene E non c'è stato detto Lo ti viene giornale su mano E' stupendo Questa è la questione che stai facendo Vedo che la tua amarezza è morta Poi mi tenevo a precisare Caro lì Caro lì Perché nessun uomo E nessun mio amico Fraterno E mi torna E' un uomo Sederà in giunta Perché massimo uomoni Come me è un uomo di centro-destra E non sederà in giunta Se ti arrivi a qualcuno Che mi sta vicino Anche perché si l'hanno scritto sul terapia Massimo uomoni Non mi sopporti Non mi farà parte Con questa giunta Poi se vuoi non farò la proposta Perché va Io ho le 10-500 euro Non so chi sei Io le 10-500 euro Le darò in beneficenza Ho qualche consigliere posto Che volessero Che toscano Per qualche problema No, no, non lo fai sbagliare No, non lo fai sbagliare No, non lo fai sbagliare Non lo fai sbagliare Non lo fai sbagliare È un giusto E un giusto È 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 un giusto Ti prego Ti voglio loddeliare Una persona Che non è più tra noi Allora passiamo alla nomina Allora passiamo alla nomina Allora passiamo alla nomina Allora passiamo alla nomina Allora passiamo alla nomina